Si chiama Ellen Robinson e pensate che è una donna che purtroppo ha un tumore che si pensava, si supponeva fosse stato, diciamo così, debellato ma in realtà questo tumore purtroppo è tornato, era al seno ed è stato attaccato addirittura i polmoni. Insomma, la donna non se la passa bene, purtroppo è trovata da questa malattia e l'amato marito di nome Stefan ha avuto una genial idea. Quale punto interrogativo? Quella di organizzare già prima, quindi in anticipo, il Natale da far vivere alla donna in questione. Insomma, un gesto bello, un gesto meraviglioso, un gesto straordinariamente unico nel suo genere probabilmente compiuto per il fatto che la donna molto probabilmente, ripeto, potrebbe morire da un momento all'altro e quindi, siccome ciò potrebbe effettivamente verificarsi in concreto e non in astratto ecco che il marito Stefano ha deciso di anticipare il Natale mettendo già l'albero, addobbando già la casa per il Natale e mettendo anche il presepe. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi al prossimo video narratore italiano. Iscrivetevi al prossimo video.